ecco volevo fare un intervento oggi 6 novembre 2020 sulla questione dei brogli elettorali naturalmente ogni riferimento a situazioni attuali non è del tutto casuale è pienamente voluto però io leggo e vedo che insomma ci sono persone che dicono lasciamo perdere tutto il sistema dei miti a che non dice assolutamente nulla che copre tutto lasciamo perdere che anzi quel poco che dicono è per ridicolizzare Trump ma anche persone che magari sono più lucide e che hanno magari anche una simpatia per Trump però arrivano a dire ma gli Stati Uniti sono una democrazia compiuta che non si sa cosa vuol dire democrazia compiuta sono ratti pari i brogli elettorali negli USA allora cerchiamo storicamente vorrei fare un piccolo quadro veloce andando veloce per dare delle coordinate per poi trarre delle conclusioni sui brogli elettorali si potrebbero scrivere enciclopedie a 360 gradi in tutti i modi facciamo vedere i paesi del terzo mondo dell'America Latina dell'Asia dell'Africa figuriamoci andiamo a quello che interessa a noi a un paese a caso l'Italia vediamo l'Italia l'Italia la nostra Italia ecco esattamente vediamo quando è nata l'Italia man mano che allora su quello che sto per dire non ci sono solamente i libri di Massimo Miglione che lo dicono e potete prendere e leggerli e che si basano sugli studi anche gli altri oltre che sulle fonti e tutto il resto ma ci sono ormai decine 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 di libri di studiosi che hanno detto queste cose fin dai tempi contemporanei agli eventi per arrivare poi all'astrografia degli ultimi 20 30 anni che ormai ha fatto grande luce su questo quindi non sto dicendo se qualcuno non lo sapesse non sto dicendo nulla di strano è tutto perfettamente riscontrabile e perfino su internet volendo diciamo così quando nella seconda guerra d'indipendenza i piemontesi scendevano per fare l'Italia la facevano con la guerra cioè rubando agli altri quello che non quello che non era loro al Gran Ducato di Toscana al Regno delle due Sicilie con la spedizione dei Mille agli altri stati ai Ducati Emiliani e quindi poi per Roma per il Papa bisogna aspettare altri dieci anni come sappiamo ma anche nella stessa Lombardia si presero quello che non era loro però man mano proprio per questo motivo appoggiati ovviamente dalla Francia e dall'Inghilterra e dalla grande forza internazionale mondiale di quei giorni la massoneria e praticamente avevano bisogno di una legittimazione in qualche modo quello che facevano c'erano bisogno del consenso popolare noi abbiamo il consenso popolare Cavour doveva dire noi lo facciamo perché abbiamo gli italiani con noi e così dovunque arrivavano in qualsiasi città diciamo così arrivassero loro facevano i famosi plebisciti li potete trovare sui manuali di storia dappertutto se voi prendete i risultati di questi plebisciti praticamente sono sempre plebisciti bulgari qualcuno che è più stagionato come me o anche più di me ricorderà benissimo che con l'espressione plebiscito bulgaro è un'espressione ironica si intendevano le famose votazioni che avvenivano così da ridere se non fosse stato da piangere nel mondo comunista del dopoguerra fino a 1989 cioè praticamente perché soprattutto in bulgaria i bulgari non avevano ritegno ogni votazione era 99,8 quando andava male era 99,8 per i comunisti quando andava bene era pure 99,9 diciamo così quindi se si usava e si usa ancora oggi l'espressione di votazioni bulgare così ironicamente vuoi vedere tutta una barzelletta ecco i plebisciti con questa da fatta all'italia sono delle barzellette fenomenali voi potete prendere qualcuno ha una percentuale un po' più bassa altri raggiungono il 98 99 per cento ma al di là della percentuale il problema è che abbiamo ormai le fonti cioè mille prove che fu tutto assolutamente truccato e specialmente in modo particolare nel regno di napoli basti pensare solamente la città di caserta nella quale praticamente abbiamo le prove diciamo così storiche che votavano i soldati piemontesi al posto dei casertani e ci fu uno che votò 37 volte come come raccontò egli stesso dopo nelle sue memorie e poi ma questa è per dirne una ci sono tantissime altre prove ma che non voglio dilungarmi ma sapete qual è la riprova più grande di quello che stiamo dicendo quella schiacciante schiacciante che non lascia nessun dubbio ebbene dovunque dovettero fare i plebisciti perché il popolo italiano dicesse vogliamo i piemontesi vogliamo diventare italiani vogliamo vittorio ii vogliamo cavur beh dovunque dovettero farli dovunque dovunque si è rivolto a 95 96 97 98 per cento dei voti che succede se voi vi ricordate dei manuali di storia se voi vi ricordare elementari media dicevo ricordare cavur in cambio di appoggio a di napoleone terzo a quello che stava facendo senza il quale non avrebbe fatto assolutamente niente non avrebbe conquistato nemmeno nemmeno la provincia di varese punto e basta dico per dire varese o chi volete voi ebbene dovete dare qualcosa in cambio a napoleone terzo il quale in francia ormai era attaccato al suo interno per questo appoggio all'italia e napoleone terzo gli chiese nizia e savoia ricordate dei banchi di scuola nizia e savoia garibaldi che dice mi avete reso straniero in patria perché vendeva nizia nizia e savoia lo stesso vittor manolo ii non era tanto contento perché se non la savoia ben o male era la loro terra d'origine quindi cavur dovette scendere nizia e savoia ma pure lì furono fatti il referendo pure nizia e savoia beh voi non ci crederete mentre dovunque andavano i piemontesi tutti li volevano a nizia e savoia tutti volevano andare con i francesi sempre tutto secondo la volontà di cavur che era la volontà di napoleone terzo che era la volontà dell'inghilterra che è la volontà della massoneria internazionale tutti i risultati perfettamente congrui ai loro piani l'italia con piemonte inizia savoia con la francia tutti felici e contenti c'è da aggiungere altro sempre sul 98 99 per cento c'è da aggiungere altro andiamo avanti vogliamo parlare del 2 giugno del 46 è chiaro se voi andate su internet troverete pietro nenni che smentisce troverete la stampa che si dà da fare per dire che non è vero troverete i grandi storici del dopoguerra italiano laicisti che diranno repubblicani che non è vero niente che è tutta una balla i brogli elettorali furono denunciati immediatamente dai monarchici furono denunciati subito che poi umberto secondo decise di stare zitto per evitare la guerra civile come li fu testualmente minacciato da togliatti e nenni questo fu una sua scelta personale ma se scusate se umberto secondo avesse detto un momento qui ci sono i brogli scoppiava la guerra che era appena finita la guerra civile un anno prima ricominciava la guerra civile i regali erano pronti e l'esercito era tutt'altro dalla parte della repubblica credete a me per cui però lui scelse di non farlo però al di là di umberto secondo della sua discutibilissima scelta quel che è certo è che ormai provato è che furono fatte sparire 800 mila voti schede con delle valigie all'uopo costruite per portare via 800 mila schede addirittura la leggenda nadra che fu direttamente il ministro degli interni giuseppe romita a portarle via addirittura non so se fu romita fu qualcuno per lui o tutti quanti insieme appassionatamente una portate via queste cose ormai sono state provate negli archivi di stato io vi do solamente un riferimento per fare voi potete trovarne anche altri e un articolo scritto contanto di note e contronote da franco malnati in nuova storica anno secondo 2002 praticamente franco malnati ha lavorato una vita intera nell'archivio di stato e ha praticamente diciamo così scritto questo libro questo articolo ma poi scritto anche un libro che potete trovare intitolato la grande frode come fu fatta la repubblica bastoggi 1997 ma questa è solamente un'indicazione ormai ce ne sono anche altre e quindi traite nelle conseguenze che volete ma potremmo parlare delle frodi elettorali anche degli altri stati potremmo parlare delle frodi elettorali comunque si hanno avvinto non parliamo del mondo comunista a cui ho già accennato naturalmente cosa voglio dire vado a concludere con questo non è solamente questione dell'italia voglio dire che le forze della sovversione mondiale forze rivoluzionari tenendo per rivoluzione la sovversione mondiale quando si fa sul serio non sono democratiche non gliene frega niente diciamo del consenso popolare se centinaia migliaia di elezioni popolari vanno lisce o con piccole cose è perché tanto loro sanno perfettamente chi vince oppure ha ammesso che non sappiano perfettamente chi vince la controparte sì diciamo così non è proprio come loro vorrebbero ma in qualche modo non cambierà le carte in tavola anzi è necessaria per far finta di essere democratici mi riferisco alle elezioni americane non posso riferirmi a tutte le elezioni italiane del dopoguerra della repubblica italiana vinceva sempre la dc poi quando è caduta c'è stato diciamo così l'era berlusconiana con la sinistra la del centro destra ma dato che invece è tutto uguale oggi come oggi lo vediamo perfettamente anche l'opposizione italiana è totalmente identica alla sinistra né più né meno dicono le cose dicono A e fanno B anzi C come la sinistra quindi voglio dire è tutto perfettamente funzionale anzi occorre un'opposizione che se non ci fosse un'opposizione non ci sarebbe la democrazia liberale massonica quindi occorre ogni tanto bisogna pure farla vincere ma quando si tratta di fare sul serio e non si scherza lì si trattava di fare l'Italia e occorreva il consenso popolare ci sarà il consenso popolare fine quando si trattava del 2 giugno 46 non si stava facendo una decisione vince l'uno vince l'altro poco meglio poco peggio parlo sempre dal punto di vista delle forze sovversive rivoluzionari si decideva lavorare a Chiava Repubblica era un momento topico si fanno sparire le schede non c'è niente da fare non si scherza e qui veniamo al dunque io ho ripetuto per mesi e mesi chi mi segue sa perfettamente fino a pochi giorni fa che queste sono le decisioni americane più importanti della storia d'America forse solo quelle del 1860 sono stato altrettanto importanti ma nel 1860 riguardava solamente esclusivamente loro perché nessuno gliene fregava niente degli Stati Uniti d'America invece oggi sono i padroni del mondo da 70 anni e quindi in qualche perlomeno dovrebbero esserlo diciamo lo sono per certi versi ebbene adesso sono importanti sono fondamentali perché con tutta questa cosa del covid qui non stiamo scegliendo tra la Clinton e Bush tra Obama e chissà chi no 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 o anche forse Reagan e Carter ricordate ai tempi nostri quando eravamo giorni no qui stiamo scegliendo se si fa il nuovo ordine mondiale o meno perché sto Trump si è messo di traverso avrà i suoi difetti avrà i suoi limiti anche lui è mantenuto il retto da potentati diciamo quei forti diciamo così senza il minimo dubbio anche perché se no l'ho detto mille volte non potrebbe fare quello che sta facendo perché sarebbe già ucciso naturalmente ebbene ebbene però si è messo storto stanno andando a monti piani altri quattro piani non esiste altri quattro anni non esiste perché si è il covid questo è il momento di fare il nuovo ordine mondiale con tutta la costruzione del totalitarismo sanitario che stanno facendo è il momento di un po' pazzetto perché quello un po' pazzetto telecomandato Biden ma dietro sappiamo chi ci sta perfettamente quindi i brogli elettorali avete credito quello che è successo conclusione conclusione voi ancora credete che la sinistra internazionale che i liberal i democratici la rivoluzione nel senso con R maiuscola siano democratici siano liberal che veramente credete che rispettino il popolo sovrano che va a votare con la corona in testa per loro il popolo sovrano è il popolo bue c'ha le corne in testa quelle del bue non c'ha la corona e tutto basta guardare al sistema mediatico italiano e mondiale tutto schierato al cento per cento da una parte sola sono tutti schiavi tutti schiavi non dico altro perché non voglio rischiare querele sono tutti schiavi pertanto non si scherza non sono peggioni della democrazia amici cari la democrazia ha le ore contate soprattutto se dovesse alla fine spuntarla biden sappiate che siamo nel totalitarismo del sanitario del nuovo ordine mondiale che diventerà un totalitarismo economico great reset e diventerà un totalitarismo politico e perfino religioso come già bergoglio con la sua ultima pseudo encirica ci ha fatto capire attenzione dobbiamo svegliarci la democrazia è finita siamo in un'altra fase anche per questo speriamo che trump rimanga dove sta non per trump ma per noi grazie a tutti